Buonasera Picciotti, faccio i due pugni perché il risultato a mio avviso è un buonissimo risultato è ovvio che la vittoria è sempre meglio di un pareggio però questo è il miglior risultato se tu non vinci la partita migliore di 0 a 0 non c'è nessun risultato ora abbiamo al ritorno 2 su 3 possibilità quindi basta non perdere a Roma e si potrebbe passare il turno ovviamente però sarà dura perché la Lazio io credo che sia leggermente più forte di noi quindi rimane sempre la favorita per poter andare in finale però ce la giochiamo ragazzi se ce la giochiamo è un buon risultato io sinceramente mi aspettavo pure che si poteva anche perdere questa partita perché io ritengo veramente che la Lazio sia un'ottima squadra poi abbiamo visto tutti quanti cosa si è mangiato Shana Loglo io ragazzi i miei video devo promuovere sempre i miei video in passato perché non avevo tanti iscritti non hanno sentito in tanti ma andatevi a vedere i video che ho fatto io ho dato una mia opinione su Shana Loglo Shana Loglo è un ottimo giocatore è anche molto pericoloso sulle palle ferme come si dice inattive calcia bene le punizioni calcia bene i calci d'angolo d'angolo però è un giocatore non è un top player tanti io avevo visto tanti ma tanti sarà il top player numero 10 alle spalle no Shana Loglo non è questo Borini stessa cosa tutti è un giocatore Borini lo ripeterò all'infinite perché come dico io a quantità ce la mette tutta ma non è bravo non è un giocatore buono poi Cutrone cosa dire io alla prima partita ragazzi io per sbilanciarmi veramente quando mi sbilancio vuol dire che ci vedo bene c'è già nell'amichevole che avevo visto con il Bayern Monaco che è solo un amichevole avevo visto già la qualità che c'è dietro Cutrone Cutrone sarà il futuro anche della nazionale italiana l'ho fatto nel video eppure contro l'Inter in Coppa Italia quando abbiamo vinto l'ho scritto sul finale ne avevo parlato in precedenza ne ricontinuo a riparlarne Cutrone un grande giocatore è entrato subito e sarà pure per noi milanisti sarà il giocatore simbolo Cutrone per me il mio giocatore simbolo già d'ora in poi per il futuro sarà Patrick Cutrone che si potenzialmente è un grandissimo anch'esso e poi ci manca ragazzi ci manca Conti madonna mia Conti è anche forte ragazzi Conti è forte quindi la squadretta per poter andare in Champions c'era quest'anno il fatto è stato anche che abbiamo assemblato una squadra completamente nuova i giocatori tutti nuovi quindi siamo partiti veramente mali non abbiamo fatto ahimè nemmeno un punto contro le Bic nel girone d'andata comunque adesso ci stiamo ci stiamo riprendendo dai spero che allora in Europa ci dovremmo andare spero che non si sa mai nella vita no io ci voglio sperare non sto dicendo assolutamente che questo accadrà perché il distacco è netto è troppo elevato però io ci voglio credere se noi saremo capaci a vincere tutte le sfide contro queste Bic o faremo almeno tanti bei punti chissà chissà perché gli altri Roma e Inter non stanno andando bene anche se credo che piano piano l'Inter si riprenderà non avrà di nuovo la stessa marcia che avevo all'inizio ma si riprenderà niente ritornando a questa partita come vi ho detto all'inizio 0 a 0 non è un risultato maligno al ritorno abbiamo due su tre risultati quindi spero nel Milan forza Milan sempre ragazzi sarà dura però non è male il risultato non è male non è male quindi se passiamo o se usciamo fuori non starò lì a dire ah lo sapevo lo sapevo perché non so niente sto dicendo solo che due su tre risultati sono buoni ma sto dicendo sempre che la Lazio rimane sempre leggermente favorita comunque sia forza Milan sempre e ragazzi cosa dire sono veramente mostruoso devo dirlo purtroppo no purtroppo sembra che sia montato però l'ho detto ragazzi su questo il giudizio di questi giocatori fino adesso si è sempre avverato quindi cosa devo fare lo devo dire perché prima avevo pochi iscritti non l'hanno visto in tanti quindi ragazzi mi raccomando rimanete nel mio canale iscrivetevi che ci saranno sempre tante belle oh ce la sto scacando col video basta dai terminiamo dai terminiamo ciao ragazzi forza Milan ciao ciao ciao